Yeeha! Il problema è che io spesso parlo nel sonno Infatti alle 2.37 del mattino Sì poi te guarda Vabbè io parlo Alle 2.37 del mattino mi misi a cantare Sasageyo a squarciagola Ma non è finita Infatti io prima di andare a dormire metto sempre la sponda al lato del letto per evitare di cadere Ma quella volta me ne dimenticai Infatti mentre cantavo Sasageyo caddi dal letto di sopra Nooo Infatti per quello che stavo ridendo Cazzo che male Per fortuna il letto di sotto è più largo quindi non sono caduta sul pavimento Ma il bello è che tutto questo me l'ha raccontata la mia amica Sì praticamente Perché io non mi ero svegliata nonostante tutto quel trambusto P.S. continua così Sei il mio youtuber preferito Spero di incontrarti un giorno Sei veramente bravissimo Ti seguo tutte le sene in live Quindi probabilmente ci sono anche ora Un bacione Thank you Se sei in chat grazie mille Mi stavo coinvolgendo No meno male che c'era il letto Sono si faceva un male incredibile Anche perché se cadi dritto cadi di testa Ma io mi immagino lei Ciao fa Ciao tia ciao ele Oggi vi racconterò questo piccolo aneddoto sulla mia vita Era il mio primo giorno di prima superiore Essendo che ho sempre vissuto in un piccolo paesino di montagna In cui le scuole medie e elementari che ho frequentato Avevano all'incirca un centinaio di studenti Nel momento in cui sono passato alle superiori In un istituto che supera gli 800 studenti Rimasi alquanto spaesato Premetto All'epoca guardavo anime da un annetto circa Ed iniziavo a capirne abbastanza Girando per la scuola E guardandomi intorno come un bambino Che vede l'esterno per la prima volta dopo il parto Non prestavo attenzione a ciò che accadeva attorno a me Svoltai bruscamente l'angolo E lì accadde ciò che non sarebbe mai dovuto accadere Ebbi veramente paura che l'universo implodesse Che il continuo spazio temporale si chiudesse su se stesso Quando svoltai l'angolo andai a sbattere addosso ad una ragazza Andando a finire a cadere su di lei E sì accadde proprio quello che pensate Come nei peggiori anime E la mia mano finì esattamente in quel posto In quel momento Tastai non capendo cosa fosse Ci dissociamo nel mentre Ci dissociamo ovviamente Anche perché poi cosa è successo Nel momento in cui realizzai cosa stessi facendo Rimasi pietrificato Dopo un urletto prodotto da lei Mi guardò dritto negli occhi e disse Ma cosa sei il protagonista di un anime? Ma aspetta mi sono perso un pezzo Seguivano entrambi anime A quanto pare sì Perché lei si è girata Ha urlato così un attimo per Vabbè cazzo che comunque urlerebbe C'è anche che capitasse a me urlerei E poi l'ha guardato negli occhi e gli fa Ma cosa sei un protagonista degli anime? Beh che dire Ad oggi e lei stiamo insieme da quasi tre anni Grazie per aver letto questo secret Siamo entrambi i tuoi grandissimi fan E ti ringraziamo per quello che fai Spero di non aver fatto troppi errori di punteggiatura Ma c'è il plot twist stanno insieme C'è ragazzi Ma c'è il plot twist Stanno anche insieme Praticamente è successo come Adasone e Kirito Ma c'è il plot twist Ciao Tiele sono Flavio Ma potete chiamarmi Ah ok no Flavio dies ma ok al nick Quindi ma potete chiamarmi Flavio Questa è la mia figura di merda Ciao Flavio Ciao intanto assolutamente Successo in terza media Durante gli esami scritti di matematica Quei giorni ero sfinito E quando io sono stanco Il mio cervello decide di spegnersi a priori E non funzionare Non io va avanti a inerzia No io invece vado abbastanza in coma Sono abbastanza male Io vado a inerzia Tu ne sei consapevole Di tanto 12 ore di fila dal mezzo morto E quindi durante l'esame di matematica Dovevamo spegnere i telefoni E appoggiarli sulla cattedra Ma io invece di spegnerlo L'ho messo in stand by per sbaglio Aia Non so perché ma un mio amico Una volta finito l'esame Ed averlo consegnato Tornò a casa Mentre io come molti altri miei compagni Stavo ancora facendo l'esame E poco dopo Il mio gentilissimo amico Ebbe la fantastica idea di chiamarmi Di farmi una chiamata Sapendo che ero ancora in aula Ma non sapendo che in realtà Il cellulare era spento Hai scritto era spento Ma credo non è Credo fosse non era spento Ormai avrete capito Partì una rave la tutto volume La mia prof si lamentò di quel rumore Mentre io facevo finta di niente Ma sfortunatamente I miei amici sapevano Chi era il possessore di quel telefono E la voce si sparse facilmente Minchia che amici signori Pensandoci ora Mi faccio una risata Ma in quel momento Volevo solo scomparire Dalla faccia della terra Ma ci credo Cioè durante l'esame Di terza media Quindi passaggio Dalle media alle superiori Ti parte un ravel Non deve essere stupenda Come esituzione Qua con tutta la drammaticità Di un ravel Durante E poi avrà messo Il ritorrello Il ritornello Immagino Ciao Tia e Dele Sono Siria Ciao Siria Sono Siria E sono una fan Sfegatata di Clannad Siamo in due Un giorno ero in video lezione E mi stavo vedendo L'episodio 16 Della seconda stagione Quando successa Quella cosa brutta Ho urlato Nagisa no E niente Poco dopo mi ero accorta Che il microfono era acceso E mi aspettavo Che la prof mi sgridasse Invece mi disse Ma conosci anche tu Clannad? Ma che cazzo Ma perché voi avete Sti professori? Dopo mi ha detto Che anche lei amava La follia Clannad E alla fine della lezione Quando tutti se n'erano andati Io e lei Ci siamo messi a cantare Dango Dai Kazoku No aspetta Con la prof Io se pronunciavo la parola Anime o manga Eresia Vate retro Vate retro L'ambiente è sempre la scuola Perché ci piace Ci piace tanto Ciao tia ciao ele Chiamatemi Giamma Quindi ciao Giamma Mesi fa comprai una maglietta in tie Credo sia la classica La classica Quella che si trovano anche in fiera Sì quelle lì Comprai una maglietta in tie E i primi due volumi Di Fairy Tail 100 Years Mi fa straridere Che ci sia la maglietta in tie E Fairy Tail insieme Mi fa straridere Beh non che Fairy Tail Nei design sia sobrissimo eh Sì ho capito Ma Fairy Tail Viene trasmesso su Ray Gulp Figa Un giorno per andare a scuola Indossai quella maglietta Senza sapere che fosse quella Quindi probabilmente L'ha presa A caso Ha indossato una maglietta a caso Per la fretta E se l'hai messa Senza rendersi Che fosse quella No come Ero in ritardo E dovevo andare a scuola Immaginavo infatti E siccome quel giorno Sarebbe mancato una prof Mi portai dietro anche I miei nuovi manga Così da poterli leggere Quando arrivò la supplente Tirai fuori il primo volume E mi tolsi la felpa Perché stavo morendo di caldo Quindi immagino che sotto Rimase con la suddetta maglia Cominciai a leggere E nel momento in cui Arrivò la prof Per controllare Che non usassimo i telefoni Io ero arrivato A una parte del libro In cui c'erano diverse ragazze In intimo O comunque no Alla fairy tale Diciamo Nel frattempo C'era il mio amico Che mi diceva Che avevo la prof dietro Ma ero troppo preso Dalla storia E non mi accorsi Da che storia Io mi immagino Mi immagino l'amico Quando mi girai Mi prese un colpo Ma il bello è che mi accorsi In quel momento Di avere anche la maglietta in thai Niente Diventai rosso Come un peperone E imbarazzatissimo Chiusi subito il manga E mi rimisi la felpa Quella prof Che mi guardò male Per tutto il resto Della lezione Ma nonostante questo Continuai a portare Quella maglietta A leggere tutti i due i manga A scuola Niente nota Niente nota Quanto pare Grazie mille L'ip soldat Crane Prima liceo Era una normalissima giornata Di primavera Fino a sto punto Poi entrai nella video lezione Di spagnolo Accidentalmente con il mio account Con come foto Profilo Zero su nuda La mia vita è caduta In pezzi In tre secondi Dopo poco Il professore di conversazione Mi disse che era una tipa Muy Pecona Peciona Pecona Peciona Muy peciona Che cazzo Non ho studiato spagnolo Regà E insomma C'era le tettone Ok Le big guppai Muy peciona Pecona Non so che cazzo Beh quello E io a quel punto Sono uscito dalla video lezione Sono rientrato con l'account giusto E il prof Mi ha guardato ridendo Qualche succede nelle video lezioni E' meglio che rimanga Nelle video lezioni Un saluto da grey Quello degli alpaca Giustamente Eh la serie di minecraft Scusate adesso devo cercare la pronuncia Muy peciona Muy peciona Muy peciona Rositta Muy peciona Eh insomma ci siamo capiti Qui si parla di mamme Sorelline E cose Non in questo 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 Mi dissocio Signori di Twitch Ha sbagliato a parlare Mi dissocio Mi dissocio Francesco quindi Ciao Francesco Ciao Tia Volevo raccontarti due storie Molto cringe Oddio Di quando ho iniziato a guardare anime Quindi degli albori In prima media non avevo ancora idea di che cosa fossero gli anime Finché un mio amico Non mi aprì a questo fantastico mondo Iniziai con Out Non pensavo fosse un anime molto violento però L'ha messo tra parentesi 025 Io iniziai a vedere su Netflix Out in camera E tra parentesi Condivido la camera con mia sorella di 7 anni Che quel giorno era insieme a me Per farvi capire Ha visto la scena della mamma di Eren Mangiata dal gigante Il giorno seguente raccontò tutto a mia madre Il cringer alle stelle Intendevo questo Certo Questo intendevo Circa un mese dopo Guardai il mio secondo anime Sao Amore finisci di leggere Ok circa un mese dopo Guardai il mio secondo anime Se io Un giorno ero da solo a casa Iniziai a vedere l'episodio 10 Beh sapete L'episodio dove Kirito chiede ad Asuna di Spoh Ah Dove Kirito chiede ad Asuna di Spogliata Ma Kirito non chiede ad Asuna di Spogliata Ah ok ho capito Solo che poi c'è il plot twist Storia bonus Stavo guardando Evangelion Quando mia madre sbirciò il telefono E mia madre disse È Evangelion Da quel giorno capì che guarda anime Fino a 25 anni Ha guardato anime fino a 25 anni C'è capito c'è il plot twist Metto Artoria in testa Metto Artoria in testa No ma ne fermo Stavo cadendo Non ti guardo Ci sono Salutiamo Dorian Gray Ciao Dorian Gray Andavo in seconda superiore Quando avevo sentito parlare di Escoldidi Non avendo né voglia né tempo Di approfondire il genere di quest'ultimo Ho deciso di dimenticarmene Ok Un mese dopo Quando ero a casa di un mio amico A cui stavo spiegando Perché Jojo è un anime fantastico Entra il padre E mi prende in disparte Mi chiede di consigliargli Un anime qualsiasi Perché anche lui vorrebbe Approciarsi a quel mondo Ok ho paura del consiglio Impanicato Dico il primo nome Che mi viene in mente Escoldidi Guarda Ero lì lì Ero lì per dire Quello Bokunopico Ebbene sì Il giorno dopo Per curiosità Ho guardato il primo episodio E mi sono sentito Morire di vergogna Una settimana dopo Sono andato di nuovo A casa di questo mio amico Potete ben immaginare Cosa sia successo Ora non lo vedo Non lo vado a trovare Ha smesso andato No no ma è problema Che poi ho letto gli anni Ora non lo vado a trovare A casa sua da circa sette anni Eh no Beh addio Anche io l'avrei fatto Anche io non ci sarei più andato Probabilmente Perché mi sarei caccato In mano dalla vergogna Questa tosta riguarda il basket Vai Allora Slime dunk Ciao Tia e ciao anche Adele Se ci sarà in questo secondo episodio Minchia C'è bella per il secondo episodio 25 gennaio Quindi mi chiamo Emanuele Ciao Emanuele Sei ancora tra di noi Ciao Ti vogliamo bene Mi chiamo Emanuele Il mio segreto riguarda Un'indicibile figura Che abbiamo fatto io E i miei compagni Cioè i miei amici Ai tempi del liceo Sono sempre stato Un grande fan del basket E condivido tuttora Questa passione Con i miei due migliori amici Essendo anche tutti e tre Dei grandi nerdoni Il passo da basket Più anime A Kuroko no basket È quasi scontato L'idea di quei personaggi E mosse speciali Ci gasava tantissimo Io ho sempre giocato Come un playmaker Quindi ero in ricalco Un po' più alto Di Kuroko Uno dei miei due amici E praticamente Kagami Schiacciatore del gruppo Con i capelli neri E l'altro è Murasaki Bara Centro della squadra Difensore fenomenale Ma più basso Cioè praticamente Sono loro in versione reale In palestra ci troviamo A giocare con un canestro Poco più alto di due metri Il regolamentare Sta fra i 3,13 metri Di solito Perché il campo Lo usavamo per fare A pallavolo E quindi dovevamo Arraggiarci per poter giocare Decidiamo Essendo il canestro Molto più Più alla nostra portata Di tentare anche Qualche schiacciata Mentre giochiamo Premetto che Essendo in tre Giocavamo Una specie di modalità La tedesca del calcio Quindi chi segnava Andava a difendere E gli altri due attaccavano Vietati i tiri da tre Mentre l'altro Era sotto canestro Perché poco divertenti In un 2 vs 1 Tocca al mio amico difensore Stare sotto canestro Quindi dopo un dribbling Venutomi abbastanza bene Butto la palla Contro il tabellone Per farla rimbalzare Verso l'altro mio amico Lo schiacciatore Che la prende al volo Per tentare Meteor jump di Kagami Il risultato Aiuto Ha fatto battere La palla sul secondo ferro E l'ha fatta volare Verso il tabellone E segnapunti Della palla volo In faccia La nostra prof Per poi cascarci addosso E finire ammucchiati Sotto il canestro Per terra Manco fosse un match Di WWE La prof voleva Vederci morti Anche i nostri genitori In quanto la prof Ha avuto uno zigomo gonchio Per una settimana E noi tutti lividi Ovunque Almeno per due settimane E noi tutti lividi